gentili telespettatori buona giornata una notizia che sono sicuro interesserà a molti in spagna il tribunale boccia il green pass ritenendolo illegale una sentenza che fa scalpore non solo in italia ma anche in europa l'ultimo tribunale locale quello della galizia ha dichiarato non valido il requisito di possesso del certificato per poter accedere a bar ristoranti locali notturni in alcune zone della regione spagnola si tratta dell'ultima nel paese iberico in cui la misura era ancora vigente con questa sentenza l'obbligo del pass rimane escluso in tutte le regioni della spagna dopo le decisioni negative dei tribunali di altri territori come l'andalusia e la cantabria in cui i governi regionali avevano tentato di introdurre l'obbligo in un comunicato il tribunale della galizia ha spiegato di aver preso questa decisione a seguito di irregolarità di procedura da parte del governo che non avrebbe sottoposto alla valutazione dell'autorità giudiziaria lo ordinanza del 22 luglio scorso in cui introduceva il green pass obbligatorio in zone ad alto rischio di contagio proprio il 22 luglio anche il nostro governo lo stesso giorno aveva deciso per il green pass obbligatorio per alcune attività l'ok del tribunale invece era un requisito indispensabile dal momento che si tratta di una misura limitativa dei diritti individuali ed è proprio a causa di tali irregolarità che il requisito del certificato verde obbligatorio in determinate circostanze è stato considerato privo di vigenza intanto secondo i dati diffusi ieri in spagna diminuiscono contagi e ricoveri come comunicato dal ministero della sanità locale l'incidenza dei nuovi casi segnalati negli ultimi 14 giorni infatti è passata da 528 a 503 ogni 100.000 abitanti negli ospedali invece il tasso di occupazione nei reparti ordinari è sceso dall 8,48 all'8,34 mentre nella terapia intensiva si è passati dal 21,54 al 21,06 insomma è una discesa diciamo impercettibile adesso parliamo di discesa praticamente possiamo dire che rimangono costanti insomma non mi sembrano questi dati così migliorati però ricordiamoci che la spagna è un altro paese ha un'altra legge altri magistrati un'altra costituzione un altro modo di vedere le cose un altro tipo di green pass avrà delle sue caratteristiche pertanto ricordatevi che la spagna è la spagna l'italia è l'italia pertanto sono due realtà che seppur insieme in europa diverse quello che decidono in spagna non è valido in europa è quello che si decide cioè scusate in italia quello che si decide in italia non è valido in spagna quindi certo è un precedente di un certo diciamo di un certo tipo ecco mentre volevo parlarvi di un'altra notizia green pass discoteche chiuse perché roberto speranza ce l'ha combriatore la clamorosa accusa del gestore della capannina beh ma insomma dai adesso si chiudono le discoteche in italia perché roberto speranza ce l'ha combriatore a me questa sembra una tavanata galattica no il cts aveva espresso parere favorevole alla riapertura delle discoteche con il green pass ma la vita notturna continua a rimanere esclusa da ogni provvedimento del governo di conseguenza i gestori pur di lavorare se ne stanno inventando una più del diavolo incorrendo però spesso e volentieri in sanzioni dietro l'atteggiamento del ministro roberto speranza nei nostri confronti dice uno in realtà c'è la sua antipatia per flavio briatore ma dai dopo quello che ha detto l'estate scorsa addirittura l'estate scorsa quindi roberto speranza si è legato al dito una cosa detta da briatore un anno fa e allora la fa pagare a tutti ma dai ma questa non si può ascoltare su non si può sentire una cosa del genere lo ha dichiarato antonio de gortes gestore della capannina il locale chiuso per violazione delle regole cofitte diciamo l'italia è bella perché varia se ne sentono veramente di tutti i colori uno per difendere il proprio articello va di inventiva clamorosa no speranza chiude le discoteche perché ce l'ha con briatore ma dai ma come si fa anche solo a pensare una roba del genere su speranza avrà tutti i suoi difetti non sarà adeguato a fare quel lavoro non è né un medico né un infermiere non non sa niente di medicina dice cosa riconfermiamo addirittura un ministro che non è manco infermiere ecco lì ci voleva comunque come ministro della salute in un momento del genere perlomeno un primario non dico un luminare ma un primario no roberto speranza esponente politico di liberi e uguali liberi da chi è uguali a che cosa non si sa partito dall'uno due per cento forse nella migliore delle e noi gli facciamo fare visto che è capo di un partitello deve fare allora dobbiamo dargli un posto politico gli facciamo fare il ministro della salute che non sa neanche che cos'è la salute nel settore della salute ecco quindi possiamo dire quello che vogliamo su speranza ma che se l'è legata al dito perché briatore un anno prima gli aveva detto chissà che cosa mi sembra veramente mi sembra veramente sconclusionato è caro proprietario della capannina ma come stai messo dai ma come fai a pensare una roba del genere comunque volevo raccontarvi questo e poi che cosa vi volevo dire veronica gentili non piace a vittorio feltrice come una zanzara tigre ecco veronica gentili è una conduttrice una conduttrice che in televisione conduce stasera italia conduce controcorrente nuovo format in prima serata lunedì sera su rete 4 è una giornalista abbastanza abbastanza mi sembra una persona preparata probabilmente non è carismaticissima magari non è preparatissima però sembrerebbe comunque una persona che tiene la trasmissione in una maniera corretta però vi racconterò poi quello che dice vittorio feltri probabilmente non piace il suo modo di gestire un programma televisivo ma io vi dico non si può piacere a tutti e c'è sempre qualcuno che ce l'ha con te ecco bene perché poi sulla gentili stanno pensando di fare altri programmi per lei e feltri è andato su tutte le furie vabbè date un programma anche a feltri così la smette di 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 essere così pesantuccio sulle altre persone insomma se le persone hanno successo lasciatele lasciatele stare no non si può sempre criticare tutto e tutti grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti